L'azione mia rispetto al solito è stata più difensiva oggi, ho voluto sostenere un po' di più la fase difensiva per aiutare i compagni. Sono molto felice del percorso che stiamo facendo, dopo un inizio molto a rilento, con due sconfitte, stiamo riprendendo il cammino e ci faremo sentire anche nelle prossime occasioni perché la squadra c'è, è in un buon momento e possiamo dire la nostra. Sulla partita mi do 7, tanta corsa, speriamo in qualche gol in più stasera. Per tutto il torneo, comunque sopra la sufficienza, 6,5-7, posso dare di più, stiamo crescendo tutti insieme e l'importante è il risultato della squadra e la prestazione ottima di tutto il team, di tutta la squadra.